Vai Nauti, dai Nauti, ma è faro sull'autano! Vai 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 vai! Bronto, Bronto, dentro l'aria! Tiro! GAAA! 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 Bronto! Bronto, Vin! Sì! Sì! E andiamo! E andiamo! Ehi, Bari, dove sei? Dove sei, Bari? Sì! Eh, chiede scusa, serve, chiede scusa, faccio il tempo, stanno ripartendo belli belli! Bravo, c'hanno ancora di... No! Su una nostra cazzata! Su una nostra cazzata in uscita! Vai Nicolò, Nicolò, svegliati! Meno male che ha tirato di cazzo, Tonali, perché questa qui... Dai, ma ragazzi, ma svegli! Oh! La difesa, tiro del cazzo nell'angolino, la difesa tutta così! E' una situazione... E' una situazione... Chi vedono in avanti si possono inserire... Alla verticale, Giroud con la sfonda, Leao, 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 Leao! Leao! 3-1 Milan! Leao! Svelo speciale! Fredenza sotto porta! Compietta personale! Milan avanti 3-1! Devastante, Pierre! Devastante questo ragazzo! Ha fatto una giocata incredibile! Adesso la riguarderemo e la analizzeremo perché è una giocata di forza, di tecnica... Complimenti! Questa era la grinta agli occhi, il sangue agli occhi che dovevano mettere! Complimenti a tutti! Complimenti proprio! ... ... ... ... ... Una possibile con Calabria e il tocco per Vigitalia e le buone... Dai, vai, ancora D'Ambiala, mette in pezzo! Goal! Goal! Dai, cazzo! Un'azione decente! Vai, Giacone! Vai, Matteone! Dai! Dai, cazzo! Svegliatevi! Cristo! Dai! E' giusto così? C'è poco da dire? Perché se il primo tempo finiva 3-1 non ce n'è niente da dire... Se sono ricominciati, ci hanno preso ancora pallonate e ci siano svegliati dopo... Quindi è giusto così, comunque... Testa bassa e pedalare... Perché il sangue agli occhi io dall'inizio non l'ho visto... Dovevamo averlo noi il sangue agli occhi, cazzo... Svegliamoci tutti, svegliamoci! Ci siamo... Mancano 5 minuti... Atmosfera, i due loghi giganti... Sta entrando la Supercoppa... Superderby di Supercoppa... Finalmente la tesa è finita... Arriva... Nicolò, Nicolò, Nicolò... Mette mezzo di Marchino... Gaaaaaah! 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 1-0! 1-0! E andiamo! E andiamo ragazzi! Nono minuto! Nono minuto! Grande azione! Grande! Grande! Mamma ma che azione! Che palla Nicolò! Allora è buono! Allora che cazzo... Perché ne fanno cambio palla cos'è? Una cosa che si fa a Riad? E gol! E gol! E andiamo! Non ci fanno capire un cazzo! Ah perché se c'è gol il pallone va nella teca... Non lo sapevo... Va bene, va bene... Va bene Melo, va bene, va bene... Dai ragazzi! E la batterà Bastoni... Subito il verticale per Giacomo... Bello! Subito! Giacomo! Giacomo! Dentro l'area! Giacomo! Pinto Giacomo! Dentro l'area! Tiro! Gaaaaaah! 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 Sì! 2-0! Che azione Giacomo! E andiamo! Punizione battuta a Peppeg! Mamma che gol! Spera voglio rivedere! Oh 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 oh! Lauti! Lauti! Gaaaaaah! 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 Il toro! Il toro! Che gol ragazzi! Dove l'ho messa di esterno? Dove l'ho messa di esterno? L'ho detto che mancava lui! Davanti alla curva! Mancava lui sotto la curva! Sotto la curva! Mancava lui la vestaglia! Cazzo! La vestaglia del toro! Tre pere! Tre peroni! Settanto a settesimo! Mamma che gol! Lautaro! E andiamo! E andiamo! Gli alziamo la coppa in faccia! La coppa in faccia! Gli alziamo! Sono sorridi! E andiamo! Tre peroni alla casa! Tre peroni alla casa! Grandi ragazzi! Grandi! Questo si chiede! Questo minchia! Cazzuti! Cazzuti! fratelli nerazzurri, amici di Facebook e Instagram, c'è la coreografia della Nord, è una faccia gigante di un serpente! Poche certezze rimangono eterne! Sembra, è giusto Fabio? Stasera abbiamo anche il vicino di casa interista, contento di maglione! Contrato di maglione, natalizio di buon auspicio! Speriamoci facciano un bel regalo! La coreografia è bellissima! Una storia nata a 100, questa parola di nuovo! Tutti i saltatori vanno, scrivono, racervi, bastoni, tre rialdi a dietro, poi c'è... Ciao ciao! In mezzo? Oh! Lauti! E' il tono! E' il tono! E' il tono! E' il tono! Meritato! Si! Si, tono! Si, così! Cazzo, stai giocando solo noi! Dai ragazzi! Vai! Vai Lauti! E' finisce! A casa! A casa! Strameritato cazzo! Aveva battuto tutto l'uomo! Si! 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 A casa! Va a fare il culo! In Arabia e in Italia! A casa! E andiamo ragazzi! Grandi! Grandi! Fa tenere due amici di Facebook e Instagram! Ci siamo! Ci siamo! Euro derby! Vicinini! Stadio Stracolmo! Cirografie che stanno per scendere! Milan Inter! Ci lasciare di Macchino! Buongiorno! Guardi me busy! regulate as duail! Zeko! Gaaa! Gaaa! ZиноGrafie Aziz! Zeko al volo! Gaaa! Gaaa! Ga, ga, gaa! Gaaa! fischiatelo Cialanoglu che fa l'assist sotto la sud ma fa il culo ma fa il culo vai Ciala e vai Giacone mica è il colpo dimas 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 mette in mezzo lauti no Michi 2 a 0 in 10 minuti vi stiamo prendendo schiaffi si 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 e andiamo e andiamo per adesso va bene così calmi calmi che mancano ancora 90 minuti grandi grandi ragazzi grandi grande partita grandi primo tempo un culo così ne abbiamo fatti grandi grandi calma calma che mancano 90 minuti calma ci sono ancora 90 minuti ci siamo Euro Derby bentornati nel live reaction ragazzi Euro Derby di ritorno intermina dai dai Robin 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 resiste ma nel mezzo 1 2 con lauti che bello rom 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 si libera rom palla per lauti 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 dentro l'area lauti che cazzo di casino rom se si capisce un cazzo lauti 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 dando lauti tiro god 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 supplemental Lif ettoro go siiii siiii tutti in piedi siiii a casa Sì Sì Ettore Vaffanculo Fischia Oh Oh Sì Sì Siamo in finale Cazzo Sì Sì Andiamo noi in finale Cazzo Grandi Grandi Dai Sì Sì